Si avvicina l'atteso appuntamento con la cerimonia di premiazione della 39esima edizione del premio letterario Giuseppe Dessy, in programma il prossimo 5 ottobre a Villa Cidro. E, per la prima volta nella storia del premio, tutte le finaliste sono donne. Per la narrativa, le utrici in gara sono Deborah Gambetta, Elena Yaneczek e Anita Likmeta. Nella sezione poesia si contenderanno il premio Laura Cerboni, Donatella Bisutti e Ida Travi. Non mancheranno momenti di grande rilievo culturale durante la serata. Alessandro Bergonzoni sarà insignito del premio speciale della giuria per il suo lavoro sul linguaggio, mentre Dori Ghezzi riceverà il premio speciale della Fondazione di Sardegna per il suo legame con l'isola. A condurre la serata sarà John Vignola, noto giornalista e conduttore radiofonico, accompagnato dagli intermezzi musicali della band Perturbazione. A fare l'imbocca al lupo al premio direttamente da Saspendula c'è Nicola Laggioia, vincitore di un premio strega. Oggi non c'è acqua, nonostante abbia piovuto, però la siccità fa sì che le cascate non ci siano, però c'è un'atmosfera veramente molto evocativa e bella. E forse questo è uno dei luoghi migliori dal punto di vista proprio dell'evocatività, per augurare, per dare l'imbocca al lupo al premio di Sì, che entra nella sua fase più spettacolare perché sarà proclamato il vincitore o la vincitrice sabato. E quindi buona edizione, buona trentanovesima edizione del premio di Sì, aspettando poi il quarantennale l'anno prossimo.